Ciao a tutti, in questa lezione affrontiamo un concetto fondamentale di After Effects, la nidificazione e la precomposizione. Al di là dei termini che vengono usati, nidificazione, precomposizione, il concetto è molto semplice. Il senso è che una composizione può diventare il livello di un'altra composizione. È tutto qua. Per capirlo meglio facciamo subito un esempio. Cominciamo a creare una composizione. Andiamo nel menu Composition, New Composition e do il nome a questa composizione in base a quello che poi creerò al suo interno e la nomino in questo modo qui. Entrata, fotografie. Il preset HD 1080 25 è durata 10 secondi, vanno sempre bene e sfondo sempre nero. Do l'ok. Metto come rappresentazione di sfondo anziché il nero cliccando qui la scacchiera bianca e grigia e incomincio a inserire all'interno della composizione un paio di fotografie. Una e la riduco. E siccome voglio che questa foto si trovi nella metà sinistra dell'inquadratura, per capire dove si trova il centro, questa volta attivo da questo menu qui in basso la voce Title Action Safe e qui c'è una croce al centro che mi fa capire esattamente qual è il centro della composizione, per cui questa fotografia la metto leggermente a sinistra del centro. Aggiungo una seconda foto, questa, la riduco più o meno grande come la prima e la metto qui a destra. Bene, voglio fare un'animazione sulla posizione di entrambe le foto. Voglio che all'inizio si trovino entrambe fuori, una sinistra e una destra e poi contemporaneamente entrino e vengono ad occupare queste posizioni qua. Quindi, rapidamente, seleziono entrambi i livelli qui nella timeline. Premo il tasto P per attivare le proprietà Position di entrambi i livelli. A questo punto voglio che al tempo 0 la foto che sta a sinistra si trovi fuori a destra, per cui prendo la foto di Cary Grant e la metto fuori dall'inquadratura a destra e accendo l'orologio. Poi prendo la foto di Ingrid Berman e invece la voglio fuori a sinistra. Benissimo, e anche per lei accendo l'orologio della Position. Dopo un secondo, quindi prendo il cursore e avanzo fino a un secondo, voglio che, cominciamo da Cary Grant, si trovi a sinistra dell'inquadratura, poco oltre il centro. Stessa cosa per Ingrid Berman, la voglio a destra dell'inquadratura, più o meno qua. Quindi, se vado a fare una preview, metto il cursore qui, premo il tasto N per abbreviare la Work Area, faccio partire la preview, è una semplice inquadratura, appunto un ingresso delle due fotografie nella composizione. Ecco, ammorbidisco anche il keyframe finale di arrivo delle due fotografie, in modo tale che quando arrivano al centro rallentano. Quindi, seleziono i due keyframe, tasto destro, keyframe assistant, easy ease, oppure, come ben sappiamo, F9. Non ho ammorbidito il keyframe di partenza, semplicemente perché non le vedo partire le fotografie, quindi non mi interessa vedere un'accelerazione iniziale. Benissimo, facciamo partire l'animazione di nuovo. Perfetto. Ok, mi fermo qua. Adesso io vorrei fare un'unica animazione su entrambe le fotografie, in modo tale che si ingrandiscano lentamente, come se ci fosse una lenta zoomata sulle due fotografie. E per fare questa operazione, attenzione a cosa faccio. Creo una nuova composizione, quindi, di nuovo, Composition, New Composition. Le caratteristiche, larghezza, altezza, fotogrammi a secondo, durata, eccetera, le lascio così come sono. La nomino, questa seconda composizione, animazione, finale, sempre fotografie. E do l'ok. Quindi ho una nuova composizione, vuota. Ok, andiamo a cercare le due composizioni create. Dunque, la composizione entrata, fotografie, è sulla in cima. La composizione animazione, finale, fotografie, invece, si è inserita in una cartella all'interno del footage. Bene, la sposto fuori. Chiudo la cartella che contiene tutto il nostro materiale e le composizioni sono qua. Una entrata, fotografie, e l'altra animazione, finale, fotografie. Benissimo. Entrambe sono aperte qui, nella timeline. Se volessi rivedere il contenuto di entrata, fotografie, l'attivo direttamente qua, dalla timeline, visto che è già stata aperta una volta. Ok, ma adesso noi torniamo nella composizione animazione, finale, fotografie. Qui dentro, adesso, aggiungo la composizione di prima, entrata, fotografie. Quindi la prendo, la trascino come fosse un qualsiasi materiale e l'aggiungo qua. Adesso io qui ho un unico livello. Se faccio la preview del primo secondo, e di nuovo tasto N, per abbreviare la work area, di nuovo a preview, io vedo quello che avevo fatto nella composizione entrata, fotografie. Ora io qui ho a che fare con un unico livello, che a sua volta contiene due livelli. Per cui adesso fare un'animazione unica sulla scala è molto più semplice. Per cui adesso, premo il tasto S per aprire la proprietà scala. E io voglio che l'animazione sulla scala dure 5 secondi. Clicco sull'orologio di scala, lascio questa grandezza qua al 100% e dopo 5 secondi voglio che tutto quanto questo livello sia più grande, cioè facciamo una cosa così. Benissimo. Quindi in un attimo ho creato questa unica animazione su tutta quanta la composizione entrata, fotografie. E magari facciamo anche in modo che nell'ultimo secondo, da 4 secondi a 5, il gruppo delle due fotografie sparisca. Per cui faccio comparire anche la proprietà opacità cliccando Shift T. A 4 secondi accendo l'orologio con valore 100% e mi allineo con l'ultimo keyframe della scala. Go to keyframe time e qui metto l'opacità a 0. Anche qui con un'unica animazione ho gestito l'opacità di entrambe le fotografie. Perché? Perché sto lavorando sulla composizione. Quindi la composizione animazione finale fotografie contiene come livello a sua volta la composizione entrata fotografie, perché questo è permesso in After Effects. La composizione entrata fotografie, se adesso io vado a riaprirla nella timeline, ha sempre i due livelli con solo l'animazione sulla position. E qui non c'è l'ingrandimento, la scala. La scala è stata fatta dopo che questa composizione è stata messa in quest'altra. Se io ad esempio torno ancora in entrata fotografie e sostituissi una delle due foto con un'altra, per esempio, apro la cartella footage, vado a cercare un'altra fotografia. Per esempio questa James Stewart. Lo voglio sostituire a Cary Grant. Quindi come abbiamo visto nella lezione precedente, si fa così. Seleziono la foto che voglio sostituire, cioè questa. Prendo quella nuova, tengo premuto il tasto Alt, la rilascio sopra quella vecchia, lascio prima il mouse e dopo l'Alt. Quindi nella composizione entrata fotografie, adesso col tasto U prevede se ci sono i keyframe, sì ci sono, ho sempre due fotografie che entrano con la stessa animazione di prima, ma una l'ho cambiata, l'ho sostituita con un'altra. Se torno di nuovo a vedere la composizione finale, animazione finale fotografie, tutto corrisponde. Per cui se io vado a correggere la composizione precedente, poi la correzione io la vedo anche quando poi utilizzo quella composizione come livello di un'altra composizione. Questa è la nidificazione, cioè una composizione dentro un'altra, che a sua volta potrebbe essere dentro un'altra, dentro un'altra, dentro un'altra. La cosa può andare avanti per parecchi livelli. E a questo punto diventa chiaro il fatto che nominare le composizioni in modo tale che sia ben chiaro qual è il loro contenuto è una cosa fondamentale in After Effects. Ora questa procedura l'archivio un attimo, cioè prendo queste due composizioni e le metto all'interno di una cartella. Quindi queste due composizioni le trascino sopra l'icona di una cartella e la chiamo Metodo 1 per distinguerla da un Metodo 2 che tra un attimo vi farò vedere. Ok? Quindi in questa cartella ci sono le due composizioni. Adesso di nuovo creo una nuova composizione ancora. Composition, New Composition. Questa volta le do il nome della seconda delle due composizioni. quindi Animazione, Finale, Fotografie con sempre gli stessi settings e la vado a mettere in una cartella appunto Metodo 2. Tra un po' capirete cosa sto facendo. Metodo 2. Bene, in questa composizione Animazione, Finale, Fotografie ricreo la stessa situazione di prima. Di nuovo prendo le due fotografie una la metto qua Questa volta prendiamo direttamente Jimmy Stewart Metto qua Faccio rapidamente questa volta quindi seleziono tasto P per evidenziare le posizioni Siccome le fotografie sono già nella posizione finale corretta attivo l'orologio nel momento finale delle animazioni quindi vado a un secondo accendo l'orologio sia della fotografia di destra sia della fotografia di sinistra poi prendo il cursore torno al tempo zero e fisso le posizioni delle due foto quella che sta a destra la metto fuori a sinistra e quella che sta a sinistra la metto fuori a destra attivo la preview e ho la stessa animazione di prima questa volta procedo così voglio che queste due fotografie qua vengano messe in una composizione che poi a sua volta diventa il livello di questa composizione finale in gergo si dice che precompongo questi due livelli quindi li seleziono tutte e due nomino questa precomposizione che di fatto è una composizione la nomino come avevo nominato la prima delle altre due cioè entrata fotografie e lasciate move all attributes into the new composition e spuntate sempre questo è un consiglio adjust composition duration to the time quindi sempre queste due voci qua questa poi non è nemmeno a disposizione do l'ok ed ecco che al posto delle due fotografie c'è questa composizione che è stata creata automaticamente non si sono aperti i settings ha creato una composizione con le stesse caratteristiche di quella finale ci ha messo dentro i due livelli e poi questa composizione qui è diventata il livello di animazione finale fotografie quindi ho praticamente ricreato la stessa situazione di prima però partendo dalla composizione finale e facendo un passo indietro ora anche qui facciamo l'animazione sulla scala quindi tasto S voglio che al tempo 0 la scala sia esattamente così com'è e dopo 5 secondi le foto siano grandi così abbiamo detto e poi shift T per l'opacità voglio che nell'ultimo secondo da 4 a 5 le foto si spengano quindi a 4 accendo l'orologio e mi allineo con l'ultimo keyframe a 0 l'opacità lancio la preview benissimo ricapitoliamo tutto ho creato in due modi diversi la stessa situazione apro le due cartelle metodo 1 e metodo 2 nel primo caso ho creato una composizione entrata fotografie ho fatto le animazioni e poi ho creato una seconda composizione animazione finale e dentro lì ci ho messo proprio io manualmente questa composizione dentro ed è uscita faccio doppio click ed è uscita questa composizione qua questa era la prima col metodo 2 invece sono partito direttamente dalla composizione finale animazione finale fotografie la apro di nuovo proprio click in questa composizione qui ho messo dentro le due fotografie ho fatto l'animazione e poi le ho precomposte le ho fatte diventare una composizione che è questa qui sotto che è automaticamente diventata il livello di animazione finale fotografie il risultato è lo stesso ho sempre l'ingresso e poi dopo sull'ingresso ho aggiunto la scala e l'opacità ok quindi ho ottenuto lo stesso scopo usando due strade diverse qual è la migliore delle due strade non ce n'è una migliore dell'altra non c'è un metodo migliore dell'altro in genere si dice che quando il progetto è molto chiaro fin dall'inizio solitamente si procede col metodo uno creo una composizione metto dentro alcuni oggetti che vengono animati poi dopo questa composizione la metto dentro un'altra composizione dove avvengono altre cose perché ho molto ben chiaro fin dall'inizio la struttura del progetto quando invece non ho molto chiara la struttura del progetto incomincio dalla composizione finale quando mi accorgo che alcuni livelli hanno bisogno di essere messi all'interno di una composizione che poi a sua volta diventa il livello di quella finale allora precompongo quei livelli come ho fatto nel metodo 2 ma sono vai di tutti e due i metodi dipende dalla situazione in cui mi trovo e dalle esigenze che ho ora per capire l'utilità di tutto questo modo di lavorare vorrei farvi notare anche una cosa ora adesso io importo in After Effects un disegno di Illustrator che è fatto a livelli quindi come abbiamo imparato in una delle prime lezioni per importare un elemento si fa doppio clic in un punto vuoto della finestra di progetto lo faccio doppio clic seleziono questo disegno di Illustrator che come ho detto prima so che è fatto da più di un livello quindi nel momento dell'importazione devo specificare questa cosa quindi non come footage lo importo altrimenti gli n livelli diventerebbero un livello solo ma devo specificare così Composition Retain Layer Sizes do questa voce qui apro questo disegno che è stato importato lo si riconosce subito dall'icona qua sopra è una composizione vera e propria se ci faccio doppio clic sopra eccola qui è una composizione che in questo caso contiene già due livelli per cui io potrei già cominciare a lavorare qui in questo caso metto lo sfondo più scuro ok in questo caso vorrei che la farfalla che è fatta da due livelli cioè spengo un attimo gli occhiolini il corpo della farfalla la parte centrale e le ali ecco vorrei che questa farfalla qui battesse le ali ok per tutta la duata della composizione le ali si muovessero in modo da simulare il battito in questo caso per fare questa operazione non lavoro sulla rotazione come accadrebbe nella realtà ma lavoro sulla scala soltanto orizzontale cioè se spengo la catena della scala qui e diminuisco e aumento soltanto la scala x orizzontale in continuazione avanti indietro ho l'illusione che la farfalla batta le ali quindi ctrl z al tempo 0 accendo l'orologio ho un keyframe dopo qualche frame facciamo 1,2,3,4,5 frame stringo le ali verso il centro facciamo una cosa tipo così dopo altri 5 frame 1,2,3,4,5 sto usando la scorciatoia ctrl freccia destra riporto le ali a una grandezza prossima al centro poi dopo altri 5 1,2,3,4,5 di nuovo rimpicciolisco le ali faccio una preview di questi 4 frame per vedere se il ritmo del battito va bene quindi mi metto qua premo il tasto n faccio una preview il ritmo va bene ammorbidisco il keyframe per rendere più morbido l'oscillazione questa volta il tasto f9 come scorciatoia rivedo il tutto direi che ci siamo ok il ritmo è giusto ora per fare in modo che la farfalla batta le ali per tutti i 10 secondi copio questi 4 keyframe quindi li seleziono ctrl c copiati e metto il cursore nel momento in cui voglio incollarli cioè circa 5 fotogrammi dopo l'ultimo e poi ctrl v quindi a questo punto ho 8 keyframe ma io voglio che il movimento della farfalla duri fino a 10 secondi quindi di nuovo copio tutti i keyframe di nuovo ctrl c vado 5 fotogrammi dopo l'ultimo e ctrl v poi rapidamente seleziono di nuovo tutti li copio tutti vado 5 circa dopo l'ultimo e ctrl v e poi incollo ancora un'altra volta ah non basta e un'altra volta ancora benissimo dovrebbe bastare faccio la preview direi che il ritmo del battito delle ali è perfetto ora io ho una composizione che contiene due disegni uno dei due livelli ha un'animazione sulla scala benissimo adesso io posso creare una nuova composizione all'interno della quale usare questa composizione farfalla come livello e poi magari posso far muovere la farfalla in giro per la composizione bene quindi di nuovo composition new composition il preset lasciamo sempre il nostro chiamo questa composizione volo farfalla do l'ok in questa composizione metto dentro la composizione farfalla a questo punto la riduco magari a questa grandezza qui e le faccio fare un po' di movimento all'interno della composizione magari al tempo zero la farfalla la voglio fuori in basso a sinistra apro la proprietà position cliccando P accendo l'orologio dopo un secondo voglio che la farfalla si trovi per esempio qui dopo un altro secondo voglio che si trovi qui dopo un altro secondo sto andando veloce si trovi che ne so qui e dopo un altro secondo voglio che si trovi qui dopo un altro secondo voglio che la farfalla si trovi fuori qua giù ora con lo strumento selezione correggo un attimo il percorso che non mi sembra ben arrotondato quindi clicco sui vari punti aggiusto la direzione la lunghezza delle maniglie in modo tale che le curve mi vadano bene ok quindi entra fa un giro su se stessa e poi esce benissimo se faccio una preview probabilmente due cose non vanno una è che la velocità non è proprio costante lungo tutto il tracciato perché i keyframe sono normali e tra un un keyframe e l'altro il percorso che la farfalla fa è variabile quindi sicuramente la velocità non è perfettamente costante quindi sappiamo già che per risolvere questo problema si prendono tutti i keyframe si clicca col tasto destro su uno qualsiasi di questi keyframe e si attiva la voce Rove Across Time a questo punto il primo e l'ultimo keyframe rimangono così come sono quelli centrali si ridistribuiscono e diventano rotondi a questo punto la velocità è costante faccio una preview è vero la velocità è costante ma come ci è già successo in un'altra lezione il disegno della farfalla rimane sempre in orizzontale non ci piace vogliamo che si metta in direzione della curva e questo lo si risolve così seleziono la farfalla menu layer transform auto orient attivo la voce orient along path do l'ok il livello si orienta lungo il tracciato sì questo è vero lo noto però il disegno stesso in questo caso specifico rimane sempre in questa direzione sbagliata la devo correggere quindi shift r correggo la rotazione che non va bene così com'è di 90 gradi verso destra perché questa è l'esigenza in questo caso 90 do l'ok ed ecco fatto fermiamoci se per caso i 5 secondi ci sembrano troppo pochi e vogliamo che duri di più questa animazione siccome ho attivato il row cross time basta semplicemente prendere l'ultimo keyframe e spostarlo in avanti se si vuole rallentare lo portiamo che ne so a 7 secondi riattiviamo la preview e direi che questa volta va bene quindi molto spesso succede che io importo un file illustrator o photoshop che è già a livelli separati e che durante l'importazione diventa una composizione la prima cosa che faccio è sistemo le animazioni che devo fare all'interno di quella composizione in questo caso all'interno della composizione farfalla ho fatto l'animazione delle ali poi dopo prendo tutta quanta la composizione e la metto in un'altra composizione in questo caso l'ho chiamata volo farfalla e qui ho fatto l'animazione di tutta quanta la farfalla e questo è possibile grazie al fatto che le composizioni possono essere a loro volta a livelli di altre composizioni quindi spero che abbiate capito bene questo concetto perché è veramente fondamentale per proseguire a lavorare efficientemente in After Effects quindi anche per oggi è tutto ciao e ci vediamo alla prossima